Questo deve smettermi di chiamarmi Toc toc Chi sei? Chi sei? Uno che non segue la zuppa Se continua a chiamarmi E noi siamo lì, giornalisti, che godiamo Io faccio la zuppa alle 10 Nonostante questo Facebook non funzioni sempre Toc toc Frustrato, vivi solo sputando addosso alla gente Sì, solo sputando addosso Deficiente che mi segue Toc toc Colpito il sud trampiano Cazzo, la vendetta di Dio Toc toc Ti devi prendere a calci nel culo Finché quel culo non gli rende rosso dal dolore Facessero come cazzo gli pare Toc toc L'incubo covid torna a auto Toc toc Grandissimo, crisante Toc toc Ma questi dove cavolo vivono? Toc toc Cinque cretini Toc toc Tenete vista Pippa, fantastico Toc toc Blocco degli sfratti Blocco dei licenziamenti Casa integrazione fino alla fine dell'anno Blocco in casa Toc toc Sono ritornati i virologi L'opalco Sapete su che cosa? Sulla grande gigantesca minchiata Toc toc Zingaretti Ma vaffanculo Toc toc Quel metodo Balamara si chiama Palamara Non si chiama Babbo Natale Toc toc Fino a tardi al tartarughino L'autolesionista deve essere menato Menato perché uno che è menato intellettualmente ovviamente Allora Ma porca puttana L'avete nominato voi Tridico Toc toc E voi vi accorgete che Tridico è una pippa Ora Ora ve le corgete Fantastico Toc toc Questa roba qua serve soltanto a quattro grillini all'occhi Che nella vita non hanno fatto nulla Zero È una scelta illiberale Voluta da Renzi Ma perfetto Girone di ritorno Toc toc Non di Arcuri Non di Tridico Non di tutte le nomine governative come Mimmo Parisi Non ci chiamiamo di questi cazzoni Ma ci chiamiamo dei parlamentari che stanno zitti e muti Toc toc L'agenzia di regime Marco Travaglio Perché è incredibile Toc toc Qualche demanda Ci perdono di più dalle scuole chiuse Quelli che vivono nei palazzi Cirio di Mondragone O quelli che sono fortunati come me Secondo quei cazzoni alla Travaglio Toc toc La maturità Tutto procede più che decentemente Lei è capo della task force Nominata dal ministro Lucia Zolina Per fare proposte per la riapertura delle scuole Toc toc È stupendo È stupendo Il giornale unico del virus C'è un po' di crisi economica E come cazzo è possibile che ci sia questa crisi economica Toc toc Tutte cazzate Tutte falsità È l'eterno ritorno di Beppe Grillo Toc toc Una serie di vaccate Una serie di cazzate tecnologiche Deve stare zitto Questa è l'unica cosa che deve fare Salvini Stare zitto Raimo Intanto De Luca Il governatore Quello del lanciafiamme I lombardi se vengono da me con il lanciafiamme Che cosa ha fatto? Zero Si è cagato sotto Concluderei con questa storia fantastica Vogliamo fare la rivoluzione green Toc toc Palle Toc toc Forza Italia Ma noi ancora sentiamo queste stronzate Cosa cazzo vuol dire? Una scuola più inclusiva Solina Toc toc Tutte gigantesche Minchiate Ciao Ciao